Garantire attenzioni alle periferie, sensibilizzare i più giovani alla raccolta differenziata e riscaldare i quartieri decentrati col clima natalizio. Sono i tre obiettivi dell'iniziativa Un albero differente che porta il Natale nel Municipio 4 di Bari. Sono quattro gli alberi di Natale donati dall'azienda municipalizzata dei rifiuti, l'Amiu Puglia, al Municipio. Sono stati decorati dagli alunni di tutte le scuole del territorio. Il primo albero è stato allestito in Piazza Umberto I a Carbonara. Seguiranno Piazza Vittorio Emanuele III a Loseto, Via di Venere a Ceglia del Campo e Piazzetta Pertini a Santa Rita. È un progetto in collaborazione con Amiu che ha l'obiettivo primario di sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche ambientali. Infatti i manufatti realizzati dai bambini in collaborazione con le docenti sono stati tutti realizzati con materiali derivanti dalla raccolta differenziata. Noi desideriamo formare sempre più in questi ragazzi una coscienza ecologica. Al tempo stesso questi alberi abbelliscono il nostro municipio e fanno sentire sempre più l'atmosfera del Natale. Queste sono zone che è oggettivamente complesso trattare sul piano della pulizia. Quando ci è arrivato questo progetto con le scuole della periferia di Ceglie, Carbonara, Loseto, siamo stati naturalmente molto felici di poter dare il nostro piccolo contributo. Vediamo oggi la presenza di tanti bambini e questa cosa, ecco, il Natale è per loro. E in più a Natale approfittate, non utilizzate carta regalo perché dura pochi minuti e diventa immediatamente un rifiuto. Guardate che i regali piaceranno comunque anche se non saranno imballati e l'ambiente magari sorriderà un po' di più. Buon Natale!